Allora quanti ne abbiamo oggi? Chi si ricorda? 23 febbraio fa un freddo cane ieri si stava da dio Cremona circuit e dai che facciamo un po di baccano oggi eh Mario facciamo un po di baccano oggi ho paura che non si riescono a scaldare il motore bisogna chiudere abbastanza davanti A presto Grazie a tutti! la versione moderna della panda la versione moderna 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 quando si vedono queste cose allora si che uno dice la soddisfazione queste si che sono soddisfazioni la lola formula 3000 la versione moderna 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.